Benvenuti a Fattoria di Barbi, sono Stefano Cinelli-Colombini e sono il proprietario di SST e questi sono i miei vincoli Siamo in Tuscany, nella parte del sud di Tuscany sul sud della provincia di Siena Montacino è una piccola comun che è tra le province di Siena e Grosseto e siamo nella parte del sud del comuno di Montacino in una piazza molto alta che viene da 550 metri a 200 metri Questo è un estate della mia famiglia, da 1790 Questa zona è abbastanza conosciuta per centenari per i vincoli e siamo molto orgogliosi di essere parte del sviluppo di Brunello negli centrii e fino ad ora continuiamo a produrre questo vino in un stile molto tradizionale ma utilizzando alcun equipamento moderno per mantenere la tradizione ma salvando la sostanza del nostro stile ma cambiando le forme perché la tecnica cambia mentre il Brunello rimane lo stesso e sono molto orgogliosi di presentare la nostra linea di vincoli qui abbiamo il Brunello Vina del Fiore che è un vino che viene dal vino che è stato prodotto da mia famiglia da 1550 e ancora in questo stile in questo stile in questo stile poi il Brunello Riserva e il Brunello di Montalcino che è uno dei più conosciuti Brunellos del mondo poi abbiamo il Rosso di Montalcino che è fatto da stile di Brunello e è un vino molto piacente ma è piccolo poi abbiamo il Morellini Riscanzano qualcosa di nuovo per il nostro stile è una propria mia vicino al mare in Maremma e poi il Brunello dei Barbi un'invenzione di mio padre il primo vino creato per per combattere le cose semplici in Montalcino una volta producci solo vini per agire e poi abbiamo deciso di fare qualcosa di altro anche un vino per ogni giorno e questo è il Brunello dei Barbi